grana persico titta la tua specialità del corlo beh questa qua sposta quel gusto extreme makeover questa qua è ricca di ingredienti questo qua è un pezzo di grana per dirti cipolline tonno olive peperoni carote perca persico reale tanta roba allora comment below e chi mette dislike esama a tutti quanti i prossimi piaci che tasta il senti il respiro senti il respiro perci o my net it's my fucking record man it's my many fresh day 46 my many fresh day baby 46 mamma look at this fish mamma look at this fish mamma i remember when we live in giudiziana e zaponelli torna sotto zaponelli torna sotto col suo 43 vai vai a pescare e se ne va e se ne va tit si sai cosa ha preso il 40 come prima cosa porta per certi spot voluccioni gigante voluccioni gigante ci ho messo due minuti a prenderlo michele prenditi tu un signorazzo è un altro over 40 penso 40 per cos'altro michele prenditi tu un signorazzo è un signorazzo è un signorazzo è un signorazzo ciao bello ah wow guarda che sberla ma che marmitte dio michele va che marmitte mettila di fianco così anche dopo guarda che coppia va più piccolo ah ma che bello vedete mike questo è un centimetro in più capisci anche tu video 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 release video video release un altro 42 dio ok quindi avete attaccato colonna Anzi, è un altro bello bruttuto, piccolino però, è il secondo pesce di giornata. E' fatto il pizzo, l'ipotizzo. Grazie per la visione!